Come al solito annuncio la prossima iniziativa del forum, la sera del 10 maggio faremo una serata dedicata ai risultati dell'accordo dell'ONU sul clima, se saranno sufficienti o no ad allontanare i rischi di disastri ecologici. Professor Maracchi, che è un meteorologo, docente di climatologia all'Università di Firenze, assieme al segretario di legambiente di Ivrea. Questa serata nasce da una sollecitazione che abbiamo portato a Roberto Esposito la scorsa estate, a seguito di un articolo che aveva scritto sulla Repubblica, che è a qualche misura premonitore. Se non ricordo male il titolo era Leviatano 2.0, la rinascita degli stati sovrani, il crollo dell'idea di soluzioni sovranazionali e il risorgere delle pulsioni nazionalistiche e di rafforzamento degli stati nazionali. Allora non eravamo ancora nel pieno di questa crisi dell'idea d'Europa. Il professore Esposito ci ha pregato di attendere l'uscita del suo nuovo libro, l'abbiamo fatto, è un testo importante, la libreria Cossavella, Aldo Cossavella, chi lo desidera poi è in grado di fornire subito le copie di questo libro che sono in ristampa, sono appena uscite da una ristampa che denota un notevole interesse. Ringrazio anche, in particolare l'abbiamo organizzato col movimento federalista, il professor Levi ha accettato di venire qua questa sera a introdurre e in qualche misura guidare, ecco, con alcune sue sollecitazioni, a professore Esposito, la discussione che sicuramente poi ci sarà. Ringrazio moltissimo entrambi e do la parola per prima a Lucio Levi ringraziandolo molto della sua disponibilità. Posso rimanere seduto? Certamente. No, ma chi devi tenere il microfono in mano? Sì. Ah, qui è finito. Va bene, d'accordo. Va bene. Buonasera. Buonasera. Però devi venire. Benissimo. Grazie per aver organizzato questa serata e per aver invitato me, il professor Esposito, questa discussione su questo libro che è una lettura sicuramente molto impegnativa, però che affronta un tema di grande attualità, cioè i destini dell'Europa, però collocato in una prospettiva storica e filosofica di grande respiro. Il professor Esposito non ha bisogno di presentazioni perché è uno dei filosofi italiani più conosciuti in Italia e all'estero. Molti dei suoi libri sono tradotti in diverse lingue e quindi è una personalità di spicco. Mi ha pregato di non fargli troppi complimenti, però appunto voi lo conoscete. Il suo contributo è un contributo che si iscrive nell'ambito della filosofia politica e la sua riflessione si è sviluppata nel corso degli anni, ma già da diversi anni, in pratica a partire soprattutto da un libro che è molto noto tra gli studiosi che è Biopolitica e Filosofia pubblicato nel 2004. Questo libro è molto conosciuto, molto studiato, molto discusso e ne ha fatto del professor Esposito un caposcuolo nella biopolitica. Ecco, che cos'è questa nozione di biopolitica? E' un concetto che mette in relazione la vita e la politica. Il libro colloca la discussione intorno a questa relazione in un'ampia prospettiva storica e filosofica, in particolare esaminando tre grandi gruppi di scuole che hanno studiato la biopolitica, quella tedesca, quella francese e quella italiana. E quella italiana naturalmente c'è, appunto il professor Esposito è uno dei caposcuola di questa tendenza di studi. La prima considerazione è che questo tema ha cominciato ad affermarsi con la formazione dello Stato moderno. è legata strettamente alla modernità e Hobbes è sicuramente l'autore che ha approfondito, il primo che ha approfondito questo concetto. Hobbes è il teorico dello Stato, dello Stato moderno e il carattere costitutivo della sua visione filosofica sta nel fatto che l'obiettivo fondamentale per cui si forma lo Stato moderno è la conservazione della vita. Questo è il punto di partenza. E quindi in particolare Hobbes dice qualcosa di più preciso, che il compito dello Stato è quello di proteggere gli individui nei confronti di una morte violenta, evitare la morte violenta degli individui. Questo è il compito dello Stato. Quindi il compito dello Stato è la pace. Hobbes usa proprio nel leviatano questa espressione, la finalità dello Stato è la pace. E la pace che cosa è? È evitare quella che è la situazione in cui vivono gli uomini nello Stato di natura, cioè la guerra di tutti contro tutti. Lo Stato, appunto, lo Stato moderno nasce dopo le guerre di religione, in cui appunto le società europee si sono dilaniate per tanti anni e appunto alla fine è nato questo artificio, questo uomo artificiale, questa entità artificiale che è lo Stato, che è un organismo come un orologio. Hobbes lo paragona a un orologio. cioè qualcosa che non esiste in natura, è una creazione degli uomini associati per, appunto, evitare quella che è la guerra di tutti contro tutti. Ora, appunto, lo Stato, con la sua sovranità, esercita un potere al di sopra degli uomini fondato su un patto sociale e su un patto di soggezione, di assoggettamento degli individui nei confronti del sovrano che governa con le leggi. Ecco, quindi questo, appunto, è un processo che il professore del politico chiama di immunizzazione, cioè un processo in cui, appunto, le istituzioni dello Stato proteggono la conservazione della vita. Ora, la biopolitica mette in evidenza la latenza della violenza che può rompere gli argini delle istituzioni e quindi, appunto, scatenare in sostanza la morte, la morte degli uomini. Quindi c'è questo rapporto tra la biopolitica, la vita e la morte, che, appunto, è nelle mani dello Stato. E, appunto, nella vita delle società umane è sempre latente questa forza arcaica che non si è soggetta alle leggi e che, appunto, tende a prevaricare le norme e scatenare la violenza tra gli uomini. Ecco. Ora, per venire alle questioni più recenti, cioè al problema dell'Europa, che è un po' l'argomento del libro, l'Europa, appunto, l'Europa ha subito una grave crisi con le guerre mondiali, in sostanza. Gli eventi più recenti che hanno portato sulla scena la visione biopolitica sono le guerre mondiali, in cui, appunto, c'è la crisi dell'Europa. Si crea una frattura tra la filosofia e la politica, tra la ragione e la politica. Ecco. Allora, il professore Esposito mette chiaramente in evidenza il fatto che all'epoca della Prima Guerra Mondiale la biopolitica si afferma appunto come una visione che interpreta questi fatti nuovi, inediti, inaspettati anche. Quindi, ora, appunto, la mia prima domanda è che non possiamo limitarci a constatare che c'è una crisi dell'Europa, che c'è una frattura tra la ragione e la politica scatenata dalle guerre mondiali. Ma dobbiamo cercare di capire perché, e questa è la mia prima domanda, perché all'epoca della Prima Guerra Mondiale, cioè all'inizio del Novecento, l'Europa ha esaurito la sua capacità di farsi guidare dalla ragione e precipita in questo abisso di violenza che poi, appunto, nel periodo tra le due guerre produce il nazismo, il fascismo, cioè delle aberrazioni che sono arrivate inaspettate. Cioè, si credeva che l'Europa fosse la regione più civile del mondo e invece conosce eventi di una ferocia, di una violenza inedite, insomma, che non hanno precedenti. Senza precedenti. Ecco, allora, appunto, io sono incline a declinare questo concetto della crisi dell'Europa in una versione più, forse più precisa, ma comunque contestualizzata nel campo della politica. Cioè, la crisi dell'Europa è la crisi di un'istituzione specifica che ha governato l'Europa, cioè la crisi dello Stato nazionale. Quindi, appunto, più che di crisi dell'Europa io parlerei di crisi dello Stato nazionale, che, appunto, ha come implicita risposta il problema dell'unità europea. Perché il problema dell'unità europea si pone già nel momento in cui scoppia la prima guerra mondiale. Ci sono due grandi autori che io cito continuamente, che quando scoppia la prima guerra mondiale dicono che la Germania diventa diventato uno Stato egemone tende a trasformare l'Europa in un impero. E questi autori sono uno Einaudi, Luigi Einaudi, un liberale, e l'altro un comunista, Trotsky. Tutti e due quando esplode la prima guerra mondiale dicono che la guerra mondiale è l'espressione negativa di un bisogno di unità dell'Europa. Cioè di riequilibrare il potere emergente delle grandi potenze che stanno ai fianchi dell'Europa, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. la Germania interpreta questo bisogno di grandi spazi economici e quindi la Germania con il suo imperialismo tende a unificare l'Europa, quindi tende a rispondere a un bisogno profondo che sta nel grembo della storia che è quello di assecondare la spinta delle forze produttive che tendevano a organizzarsi su spazi di dimensioni regionali. Ne parlavamo prima poco tempo fa quando chiacchieravamo a cena. Ecco, allora direi che questo è il primo punto. Se vogliamo però le quattro domande sono concatenate tra di loro quindi forse è più facile non lo so come preferite voi. uno alla volta benissimo. Posso allora? Ma intanto voglio ringraziare Aldo Gandolfi per questo invito il professore Levi Lucio Levi per le parole che ha detto e ringraziare tutti voi che questa sera ci avete dedicato a questa vostra serata. Dunque che cosa accade all'inizio del novecento quando l'Europa era in crisi fino ad arrivare alle guerre mondiali? Ma diciamo la risposta sta un poco nelle cose dette cioè è stato il passaggio dalla nazione al nazionalismo al colonialismo e all'imperialismo. la nazione che cos'è quando sono nati gli stati moderni tra quattro cinque e seicento quella nascita degli stati moderni è stato un elemento necessario no? Sono è stata l'uscita dalla fase tardo medievale feudale e la creazione di stati che hanno garantito sul territorio europeo l'ordine questi stati non potevano essere considerati delle semplici macchine e quindi poco alla volta è nata l'idea di nazione come qualche cosa che appunto teneva insieme all'interno di uno stesso territorio gli abitanti con delle finalità comuni con una lingua comune spesso con una religione comune quindi l'idea di nazione quando nasce è stata qualche cosa non diciamo negativo o positivo ma di necessario per appunto compattare le unità statali europee a un certo momento poi da un certo momento in poi le nazioni cominciano ad assumere un'ideologia nazionalista cioè a scontrarsi tra di loro per l'egemonia per il predominio in Europa cominciano ma questo già a partire se vogliamo dalla scoperta dell'America un percorso colonialista soggiogando grande parte del resto del mondo l'Africa l'Asia e poi appunto l'America l'Oceania e infine il fenomeno dell'imperialismo cioè appunto alcune nazioni hanno pretesso di imporre all'Europa la propria unità non l'unità federale dell'Europa pensiamo già a Luigi XIV in Francia poi Napoleone e poi Hitler sono tutti stati questi tentativi di unificare l'Europa sotto il potere egemone sotto il tallone diciamo imposto dalla guerra di un singolo Stato a questo punto questi tre fenomeni nazionalismo imperialismo e colonialismo si sono mischiati con un elemento ancora peggiore che il razzismo in particolare nella Germania nazista tutto questo ha precipitato l'Europa in una crisi sfociata nelle due guerre mondiali in cui è stata di fatto salvata dagli Stati Uniti per certi resti c'è stata appunto la resistenza della Francia dell'Inghilterra però a decidere è stato l'intervento degli Stati Uniti dopo la guerra finalmente è nata l'idea appunto federalista di unificare l'Europa non più sotto il pugno di una potenza e sotto la violenza degli eserciti ma attraverso diciamo una serie di accordi che poco alla volta portassero l'Europa verso l'unità tutto questo abbiamo visto movimento nato a Ventotene come voi sapete con Spinelli e altri che oggi attraverso un momento di grave crisi io dico un'ultima cosa poi ripasso il microfono al professore qual è la causa secondo me più forte di questa crisi dell'Europa europea il fatto che si è immaginato che l'Unione potesse essere inizialmente economica solo economica e che successivamente sarebbe arrivata l'Unione politica così non è stato perché diciamo l'economia finanziaria anziché aggregare ha creato problemi ulteriori a cui si sono aggiunti poi il grande flusso migratorio adesso il terrorismo fondamentalista e quindi questa fragile creatura che era l'Unione europea è entrata in una crisi fortissima che minaccia la sua stessa sopravvivenza la mia risposta a questo problema la darò dopo la seconda domanda in cui interpreto insieme due fenomeni che sono collegati tra di loro e che devono essere studiati sulla base delle stesse chiavi interpretative la seconda domanda è questo perché la biopolitica è di nuovo al centro dell'emergenza di oggi cioè terrorismo emigrazione crisi economica cambiamenti climatici ecco tutti questi fenomeni certamente portano la vita la conservazione della vita e la morte anche perché appunto sono fenomeni che producono morte appunto perché sono di nuovo al centro dell'emergenza di oggi appunto c'è un nuovo livello di crisi dello Stato ecco mentre all'epoca delle guerre mondiali eravamo di fronte alla crisi dello Stato nazionale oggi siamo di fronte alla crisi di tutti i tipi di Stato anche di quelli di dimensioni macro regionali che appunto sono espressione di una tendenza storica che spinge l'Europa verso la ricerca della sua unità per equilibrare quei grandi spazi economici e politici che si sono formati fuori dall'Europa cominciare dagli Stati Uniti e dalla Russia ma oggi anche la Cina l'India il Brasile e comunque in generale ci sono altre organizzazioni regionali che aspirano a acquisire forme sempre più strette di unità per appunto partecipare a questa competizione mondiale per decidere a livello internazionale ecco quindi siamo di fronte all'esigenza di appunto rispondere a sfide che sono oramai globali ecco allora qual è la chiave interpretativa io utilizzo due chiavi interpretative che appunto la prima è il materialismo storico sulla base mi spiace di semplificare eccessivamente ma qui dobbiamo andare veloce quindi posso dare semplicemente degli spunti per una riflessione che poi ciascuno di voi svilupperà per conto suo pensando a quello che abbiamo discusso stasera cioè a ogni svolta la legge storica che volevo evocare è questa ogni svolta nell'evoluzione del modo di produrre si genera una spinta verso l'allargamento delle dimensioni dello Stato per cui appunto con il modo di produzione agricolo la forma normale di organizzazione politica era la città Stato con la rivoluzione industriale il modo di produzione industriale si dilata la dimensione dell'organizzazione statale fino a formare mercati e stati di dimensioni nazionali con la seconda fase della rivoluzione industriale cioè quella della linea di montaggio del nastro trasportatore che permette di produrre in serie milioni di prodotti uguali si possono alimentare dei mercati di dimensioni macro regionali infatti nel 1913 Ford nella sua fabbrica di automobili introduce queste innovazioni produttive e gli Stati Uniti salgono al vertice della politica mondiale del potere politico mondiale e la Russia dell'Unione Sovietica con la rivoluzione d'ottobre anch'essa sfrutta un mercato di grandissime dimensioni e quindi può realizzare un'industrializzazione rapida e forzata che porta anche sul lato del comunismo alla formazione di una grande potenza di dimensioni continentali di cui appunto l'Europa che ha cercato la sua unità attraverso l'imperialismo tedesco che è stato sconfitto dalla coalizione delle grandi superpotenze però il problema dell'unità europea non è scomparso si è riproposto in termini nuovi cioè di realizzare un'unità europea sulla base del consenso della collaborazione della cooperazione tra gli stati però mi permetta di finire perché il ragionamento è complesso e cerco di semplificarlo il più possibile ma oltre certi limiti rischio di essere banale o superficiale ecco quindi la 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 seconda fase del modo di produzione industriale genera una spinta verso la formazione di stati di dimensioni macro-regionali l'unificazione europea è una risposta a questa esigenza storica però oggi siamo in una nuova fase del modo di produzione cioè il modo di produzione scientifico che ha portato la scienza a diventare la principale forza produttiva la quale ha scatenato il processo di globalizzazione quindi sul piano politico è posto il problema di formare un governo mondiale delle istituzioni mondiali c'è l'ONU l'organizzazione mondiale del commercio fondo monetario internazionale sono tutte espressioni dell'esigenza di governare processi che oramai sono di dimensioni globali per citare solo un dato all'inizio del secolo scorso le organizzazioni internazionali nel 1909 erano 37 e oggi i dati del 2014 le organizzazioni internazionali sono 7600 cioè c'è una spinta verso l'organizzazione internazionale che è straordinaria potenza che esprime un'esigenza vitale dei popoli e della politica la seconda chiave interpretativa e poi chiudo la mia seconda domanda riguarda un'altra teoria fondamentale per capire questi fenomeni che è la teoria della ragione di stato Hobbes è uno dei personaggi più illustri che fanno parte di questa scuola cioè la teoria della ragione di stato è la teoria dell'autonomia relativa della politica rispetto al modo di produzione ora la mia domanda è questa perché e questa sarebbe la terza domanda perché tra le fonti della biopolitica il professor Spodis non ha incluso almeno in modo teoricamente teoreticamente argomentato la teoria della ragione di stato perché Hobbes gli autori da cui parte la sua riflessione sono Hobbes e Spinoza che hanno portato la conservazione della vita al centro della riflessione filosofico-politica però tra questi ci sono tanti altri autori significativi e importanti come Ranke Hinze Meineke De Io e appunto De Io per esempio ha scritto un saggio intitolato L'agonia del sistema degli stati e quindi che è qualcosa che va al di là di quel libro che viene citato dal professor Esposito di Maria Zambrano L'agonia dell'Europa ecco non è soltanto l'agonia dell'Europa è l'agonia del sistema degli stati cioè il mondo è passato da un sistema europeo delle potenze a un sistema mondiale dopo la fine della seconda guerra mondiale si è formato un sistema mondiale bipolare formato da stati di dimensioni continentali che competono tra di loro e appunto questo è un appunto aspetto fondamentale della crisi di cui stiamo parlando cioè è tramontato un ordine mondiale il sistema europeo delle potenze che aveva un controllo del mondo a un sistema mondiale delle potenze bipolare governato da due superpotenze di dimensioni macro-regionali che dopo la fine della seconda guerra mondiale si sono spartiti l'Europa e l'hanno soggettata alle rispettive aree di influenza ecco quindi la mia domanda è questa perché tra le fonti della biopolitica non vengono inclusi tutti gli autori della teoria della ragione di Stato grazie ma io non entro in questioni filosofiche troppo tecniche diciamo perché la situazione non è tale da consentirlo invece vorrei stare un poco sulla questione Stati macro-Stati regionali e organizzazione mondiale diciamo alla fine della seconda guerra mondiale appunto la crisi della sovranità degli Stati nazionali determina il passaggio a una nuova fase che è quella dei grandi Stati a dimensione continentale oggi gli Stati egemoni che dominano il mondo sono appunto Stati continentali gli Stati Uniti la Russia la Cina l'India il Brasile perché questo? perché evidentemente Stati piccoli come sono gli Stati europei in Europa l'unico Stato più forte è la Germania per motivi economici demografici ma è pur sempre una potenza limitata rispetto a questi grandi Stati perché appunto nella globalizzazione con l'unificazione dei mercati e l'unici organismi capaci di resistere sono appunto questi grandi macro Stati regionali l'Europa potrebbe e dovrebbe essere tra quelli solamente un'organizzazione europea può consentire a Stati come l'Italia la Francia la Spagna di sopravvivere perché evidentemente per confrontarsi con potenze egemoni come la Cina o come gli Stati Uniti soltanto l'Europa avrebbe questa forza arrivo arrivo un po' alla questione un po' di fondo io non immagino che oggi si possa arrivare a una federazione mondiale non perché questo non sarebbe auspicabile già il filosofo Kant a suo tempo aveva parlato di diritto cosmopolitico di appunto di un'organizzazione mondiale ma diciamo se dobbiamo attenerci non solamente a quello che vorremmo ma anche alla realtà effettiva non mi pare semplice organizzare appunto tenere in un'unica organizzazione politica Stati con diversissimi ordinamenti giuridici democrazie dittature Stati tribali quindi diciamo la federazione mondiale può essere un ideale lontano a cui approssimarci però io credo che invece noi europei dovremmo andare incontro all'esigenza di una reale unità europea che significa una reale unità europea un'unità non soltanto economica peraltro probabilmente forse purtroppo l'Inghilterra lascerà anche l'Europa l'Unione europea non coincide con gli stati che hanno l'euro ma comunque l'unità economica non basta bisogna raggiungere un'unità politica cioè bisogna bisognerebbe creare un popolo europeo un popolo europeo con delle istituzioni democratiche comuni capace di definire la politica dell'Europa sul problema dell'immigrazione sul problema della lotta al terrorismo sul problema appunto dell'ordine globale ma a partire dall'Europa questo è reso difficile perché la costruzione europea che si è fatta appunto non prevede elezioni globali europee non prevede diciamo una sovranità dell'Europa non esiste una forza armata europea non esistono neanche diciamo delle guardie di confine dell'Europa non esiste un'unità giudiziaria dell'Europa per cui ogni Stato ha i suordinamenti e quindi se in un piccolo Stato come il Belgio c'è stata recentemente una vera e propria catastrofe cioè c'è stato un collasso per la differenza all'interno del Belgio questa stessa cosa si verifica a livello europeo quindi io credo che tutti gli sforzi vadano fatti per andare verso una maggiore unità europea naturalmente la creazione di muri frontiere fili spenati che sta avvenendo in questi giorni sul Brennero ma anche nell'Europa centrale va in una direzione contraria per fare questo ci vorrebbero delle classi dirigenti europee adeguate all'altezza la mia sensazione è che al momento ce ne siano poche non ce ne siano insomma quindi il problema che io vedo è quello relativo all'Europa tenendo sullo sfondo sull'orizzonte la questione diciamo di una federazione mondiale nobile progetto ma in questo momento con l'isis di mezzo facciamo una federazione mondiale difficile o con l'Arabia Saudita o con ma con la stessa Russia sarebbe impossibile farla no ecco questa è un po' la mia sensazione ma è una mia personale punto di vista e so che che voi invece difendete la possibilità di andare abbastanza velocemente a una federazione mondiale è così? velocemente no quello che condivido largamente magari poi a un certo punto diamo anche la parola al pubblico sì no sono largamente d'accordo soprattutto sulle considerazioni che ha fatto sull'Europa la prospettiva di governare la globalizzazione è un'esigenza ineludibile perché appunto la grande contraddizione della nostra epoca sta nel fatto che chi decide oramai i destini del mondo sono la finanza globale le società multinazionali le grandi reti televisive come la CNN o Al Jazeera che plasmano un'opinione pubblica internazionale organizzazioni religiose come la Chiesa Cattolica e altre organizzazioni religiose i gruppi criminali la mafia è diventata globale i terroristi i gruppi terroristici sono globali ecco ora in tutto si sta globalizzando c'è una sola cosa che è rimasta nazionale la democrazia questo ora la democrazia è in pericolo è in pericolo perché dove c'è democrazia a livello nazionale oramai ci sono questioni di secondo ordine da decidere dove si decidono i destini dell'umanità non c'è ancora democrazia nel mondo l'unico tentativo di portare la democrazia a livello internazionale è il Parlamento europeo che però appunto ci sono certo ogni cinque anni noi andiamo a votare però questo Parlamento intanto non ha tutte le sue le prerogative costituzionali che hanno tutti i Parlamenti per esempio in politica estera non ha poteri di decisione ma solo sulle questioni economiche ma poi soprattutto il fatto che i cittadini eleggono i deputati i loro rappresentanti nel Parlamento europeo ma non decidono chi governa chi governa l'Europa un piccolo passo avanti si è compiuto in occasione delle elezioni europee del 2014 cioè quando il Parlamento europeo per la prima volta facendo un braccio di ferro con il Consiglio europeo è riuscito ad affermare il suo potere di eleggere lui il Presidente della Commissione e non il Consiglio europeo e questo è stato sicuramente un passo avanti cioè dopo le elezioni dopo che i cittadini si sono espressi e hanno appunto dato più voti al Partito Popolare europeo allora il Parlamento europeo l'aveva già detto in anticipo prima delle elezioni il partito che avrà più voti sarà il capolista di questo partito sarà quello che ho finito il partito che ha avuto più voti all'elezione europea sarà quello che designerà il Presidente della Commissione così è stato però certo siamo ancora indietro perché questo non basta vi faccio una domanda chi di voi sapeva chi di voi sapeva questa cosa quando è andato a votare cioè sapeva che il capolista del partito che avesse avuto più voti sarebbe diventato Presidente della Commissione ecco allora io solleciterei il titolo è quale filosofia per l'Europa l'ultima parte del libro è particolarmente dedicata a questo insomma se può in qualche misura ha già accennato ecco al problema ma insomma se vuole aggiungere qualche riflessione poi diamo la parola al pubblico ma sì adesso diciamo la serata è andata in questa direzione delle domande delle risposte è difficile ripartire da capo insomma il libro è nato dentro un po' il mio percorso in seguito a un altro libro che era dedicato all'Italia alla filosofia italiana questo invece è un libro dedicato alla filosofia europea contemporanea in particolare alla filosofia tedesca francese e italiana però il punto più interessante per noi qui è appunto una riflessione sulla crisi attuale dell'Europa questa crisi attuale dell'Europa se noi ricordiamo anche quello che successe un anno fa con la Grecia ricordate no? è stata una crisi da qualche anno essenzialmente economica crisi economica ha determinato una separazione tra paesi forti e paesi deboli paesi mediterranei e all'interno di ciascun paese tra strati sociali sempre più ristretti e privilegiati destinati a drenare un po' tutte le risorse e le ricchezze e strati sociali sempre più ampi portati all'avere propria disperazione in una crisi di sopravvivenza che noi tutti sperimentiamo continuamente a questa prima crisi economica che non si è ancora risolta perché nonostante le assicurazioni dei nostri governanti anche in Italia che siamo usciti dalla crisi che stiamo uscendo di fatto la disoccupazione altissima di fatto diciamo la situazione sociale completamente disgregata dicevo a questa prima crisi economica se ne sono aggiunte altre due altrettanto e addirittura anche più gravi e cioè da un lato il flusso immigratorio scatenato in parte dalle guerre prodotte spesso dagli stessi occidentali in Nordafrica a partire dalla Libia in Siria in Iraq e questa crisi immigratoria come dire ha posto le classi dirigenti europee in una tragica alternativa quella cioè di respingere questi poveracci questa gran massa diciamo di poveracci poi non tutti insomma sono tali ma quindi di condannarli di fatto a morte soprattutto se vengono dal mare oppure di accoglierli però in una forma che in qualche modo comincia a entrare in contrasto con le esigenze delle popolazioni locali quindi questa crisi che è forse poco definire solo umanitaria io ho usato l'espressione richiamata prima dal professore biopolitica in che senso che in questo caso le decisioni politiche possono determinare la sopravvivenza o la morte di alcune persone quindi la politica non riguarda più il regime politico la distribuzione del potere ma riguarda la carne viva di persone che sono in fuga che scappano persone che sono anche nei nostri paesi attanagliati dalla fame dalla malattia eccetera e infine quindi crisi economica crisi dell'immigrazione poi crisi terroristica a un certo punto l'Europa è stata per la prima volta in questi mesi insanguinata no? a Parigi a Londra in Spagna in Belgio e tutto questo che cosa richiede questa sovrapposizione di crisi che hanno formato un'unica grande crisi richiederebbe appunto più secondo alcuni richiederebbe la chiusura all'interno degli stati no? appunto la costruzione di barriere ai confini è una tesi ormai molto diffusa fatta proprio da alcune parti politiche che spesso vincono anche le elezioni secondo altri invece me incluso richiederebbero più Europa cioè una maggiore solidarietà interna una diversa distribuzione della ricchezza in tutti i paesi e nell'Europa nel suo complesso e delle istituzioni comuni richiederebbe un'Europa non più dell'elite ma del popolo cioè popolo capace di determinare la politica europea quindi questa è la situazione attuale che noi vediamo scorrere di fronte ai nostri occhi dagli schermi televisivi ma che sentiamo nella nostra vita diciamo materiale nella nostra vita quotidiana ecco questa questione è stata affrontata io insegno filosofia quindi diciamo anche dalla filosofia in modi diversi che qui diciamo non so se è il caso di richiamare ma il problema di fondo è proprio un problema politico storico antropologico nel senso che la popolazione europea sta cambiando anche etnicamente per il calo demografico dei paesi europei e per invece il forte aumento demografico dei paesi extraeuropei e quindi è una situazione da un lato inevitabile non è possibile che l'Europa si chiuda in una fortezza e resista diciamo agli attacchi alle pressioni esterne ma non è neanche possibile una totale apertura e quindi una perdita dei caratteri diciamo originari dell'Europa si tratta di trovare un giusto equilibrio le classi politiche europee devono essere chiamate a questa responsabilità a volte dico quest'ultima cosa le crisi determinano a un certo punto delle soluzioni per necessità cioè le crisi a volte hanno anche una funzione costituente positiva quando si arriva diciamo al punto massimo di crisi si è costretti ad andare verso determinate soluzioni vedremo che succederà a giugno in Inghilterra ci sarà il referendum per capire se l'Inghilterra resterà in Europa o ne uscirà secondo me si corre il rischio che ne esca credo che questo sia un errore per la stessa Inghilterra perché diminuirebbe di forza fuori dall'Europa resterebbe come dire a metà tra America ed Europa diminuirebbe anzi l'Europa avrebbe un colpo mortale perché una nazione come l'Inghilterra che esce non sarebbe come se uscisse la Grecia già se uscisse la Grecia sarebbe un colpo ma con l'Inghilterra uscita secondo me si andrebbe a una crisi radicale dell'Unione Europea quindi stiamo a vedere diciamo tutti noi chi fa politica chi fa economia chi fa che si occupa come me di sapere o anche di filosofia dobbiamo attrezzarci ad affrontare questa questa emergenza insomma questo è un poco ho detto non il contenuto del mio libro ma un po' lo spirito del libro cioè qual è un po' la proposta il senso ma il senso è un po' ma no 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 Io credo che noi qui non siamo ancora con una crisi conventura nella città di fronte a una crisi sistetica. Una crisi conventura non c'è, prendendo il percorso, ma... Ma sicuramente, meglio, 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 sicura, si sente, ma... ...o quasi di qua. Ripeto, non siamo di fronte a una crisi congiunturale, siamo di fronte a una crisi di sistema. Non usciremo, riprendendo prima o poi i percorsi che avevamo avviato, avevamo seguito per tanti decenni, penso che partiremo per altre strade, da altri punti di partenza, che ci saranno delle rotture anche violente probabilmente. Perché dico questo? Perché credo che, per quanto riguarda l'Europa e non farne una questione mondiale, si è partiti tentando di costruire un'unità dal punto di vista economico, non credo, si è partiti tentando di costruire un'unità attorno alla potenza più forte che è la Germania, che ha imposto i suoi parametri economici e che poi, fino adesso, hanno portato l'Europa e i popoli europei a non convergere su niente. Cioè, tanto erano distanti 30 anni fa, tanto sono distanti adesso dal punto di vista dei diritti sociali, dal punto di vista delle capacità e delle potenzialità produttive e così via. Non c'è stato, non solo, ma all'interno dei singoli paesi c'è stata una progressiva divaricazione tra i pochi ricchi e i tantissimi, sempre più tantissimi poveri. E quindi non è vero che si è affrontato il discorso da un punto di vista economico, si è affrontato da un punto di vista monetario, con dei rigidi vincoli che hanno provocato la difesa dei paesi più forti e hanno il vantaggio dei paesi più forti a scapito dei paesi più deboli, che sono diventati sempre più deboli, a vantaggio delle classi più forti, che sono diventati sempre più forti, al vantaggio delle classi sempre più deboli. Anche di fronte a crisi, come quelle che avete citato voi, che sono sotto gli occhi di tutti, dal fondamentalismo al terrorismo, alle migrazioni epocali, la risposta qual è? Avete mai sentito parlare di principi, di ideali, di valori europei? Dove sono i valori dell'Europa? Cioè dove è l'Europa? Non esiste l'Europa, non esiste, esiste l'Euro, esiste un paradigma economico, econometrico, ormai superato dai fatti e dalla storia, che non si vuole cambiare, esiste i centri di decisione che sono tutti da un'altra parte ed esiste il mondo che si globalizza, mettendo a contatto potenziali enormemente differenti tra una popolazione e un'altra, tra una classe e un'altra, e queste tensioni la storia le ha sempre risolte in modo violento, non in modo evolutivo, pacifico, le ha sempre risolte in modo violento. Allora, o le classi dirigenti hanno la capacità di produrre concettualizzazione, idealizzazione, che si traducono in linee politiche efficaci, Hobbes è stato citato, Hobbes era un filosofo, però ha fatto la base della costruzione degli stati moderni. Oggi il pensiero politico non c'è, oggi il pensiero politico non c'è, c'è la demagogia, c'è il contatto, perché? Perché si usa il vocabolario del secolo scorso, non c'è più quel vocabolario, ha finito di rappresentare qualcosa, ci sarà, stiamo vivendo una trasformazione antropologica, dobbiamo capire che usciremo, che non possiamo più usare lo stesso vocabolario, dobbiamo cambiare vocabolario, perché i paradigmi della crisi non sono quelli che noi interpretiamo con quelle parole. Voi intellettuali datevi da fare, cambiate il vocabolario, cambiate il paradigma, con questo vocabolario, con questo paradigma, non si va da nessuna parte. Grazie. Sì, io volevo chiedere, secondo lei, di quale sapere si dovrebbero nutrire gli europei, di quale filosofia dovrebbero, se c'è qualche autore, qualche linea di pensiero che ha visto, che secondo lei oggi potrebbe essere feconda particolarmente. Non aggiungerò una visione diversa da quella che è stata illustrata in particolare da Emilio, ma alcune cose volevo così ricordarle. Qui si è parlato ovviamente molto di Europa, ma mi sembra che prima della fine della seconda guerra mondiale di Europa non se ne parlasse, in maniera perlomeno diffusa tra il popolo. E lì abbiamo perso, probabilmente in quel momento lì, abbiamo perso l'attimo, perché si veniva fuori da due guerre mondiali devastanti. I sopravvissuti avevano voglia di rifondare, perché si è preso il cammino verso l'Europa, perché l'ordine mondiale si pensava doveva essere ormai quello senza guerre, si doveva collaborare, si doveva trovare una forma per convivere. E quello era il momento giusto, c'era un momento di benessere in Europa, in Italia, in altri paesi per la ricostruzione. In quel momento è stato perso, non vedo francamente come si possa salvare l'Europa a questo punto, poi sarei ben contento, ma non vedo. I governanti sono di un livello talmente basso e quasi tutti, finito il mandato, vengono incriminati per qualche cosa. Quindi direi anche da un punto di vista etico, prima si è parlato di valori, insomma, in tutti gli stati europei, in altri stati, in Russia, abbiamo un quasi dittatore, negli Stati Uniti vediamo i candidati che stanno per correre la presidenza, non trovo nessuna spinta, nessuna spinta, né dall'esterno né dall'interno, che ci possa far sperare un qualcosa di diverso da una defiance. Cioè, credo che in tempi rapidi, che non vuol dire un giorno, ma che vorrà dire mesi o qualche anno, se non succeda qualcosa di veramente imprevisto, non so se qualcuno di voi, professore, magari ha qualche idea, ma non glielo chiedo, perché non ha neanche lei la sfera di cristallo, se non succede un qualcosa di imprevisto, l'Europa si sfascia. E poi arriveranno le faie. Stiamo tornando indietro, non di 30 anni, ma di 70 anni, di 100 anni. È un'involuzione. Ce ne sono state altre nella storia. Purtroppo, forse ci toccherà vivere un'altra. Non per aggiungere altri elementi alle crisi che sono state indicate questa sera, le molteplici crisi, però, per esempio quella ambientale, ma ci saranno occasioni che, voglio dire, a tempi e modi forse che ci costringerà a breve a fare appunto cambi, e meglio prima diceva di paradigmi, che vuol dire poi riflettere sull'economia, su come produciamo, consumiamo. Però, avremo occasione. Mi interessava invece di chiamare l'attenzione su un altro dato di crisi, che è quella del partito, dei partiti, e quindi della rappresentanza. Perché? Perché partito e stato, nazione, sono due sinonimi. Nel senso che il partito, per come l'abbiamo conosciuto, il partito politico era sinonimo di centralizzazione. Il partito era lo strumento attraverso cui si conquistava il potere centrale. Questo era omogeneo a tutte le culture politiche dell'Occidente. Lo è stato. Ed è entrato in crisi anche questo. Quindi, e stasera abbiamo appunto il professor Levi, il professor Esposito, quindi il movimento federalista, o ampliamo la nostra riflessione anche attorno a questo elemento di crisi, perché se non abbiamo lo strumento per la politica, che finora è stato il partito, per superare le crisi, come? Quindi dovremmo riflettere proprio sullo strumento anche, cioè come si ricostituisce la capacità di rappresentare, cioè di costruire la cittadinanza, e quindi la partecipazione dei cittadini. Inutile richiamare in questa città l'opposizione di persone come Olivetti, Stivo Spinelli, scusate, no, era l'altra fase, Silvio Trentin, al partito, alla figura del partito centralizzato, proprio perché per loro era sinonimo di stato centralizzato. Quindi è tutta un'altra elaborazione molto più vicina a una visione federalista, di quelle delle comunità autonome, Fortemente guidate da cultura tecnica, in alcuni casi, no? però ecco, rivediamo, riprendiamo alcuni filoni. Allora, la necessità che oggi abbiamo di ripensare la rappresentanza, quindi una risposta alla crisi della politica, ci deve probabilmente portare a riflettere anche su alcune esperienze come quello dell'ipotesi federalista che non è stata praticata, poi a tutti gli effetti, sia all'interno dello Stato-Nazione, sia appunto nel rapporto tra le macro regioni o macro aree come è stato definito. Dovremmo far la cortesia di venire a parlare al microfono. Mi spiace, non abbiamo un microfono per andare a citturare. Ecco, di parlare più forte. Ci sento di un accordo con il momento di difficoltà anche di comprensione dell'Europa perché sono secondo me i principi stessi delle realtà che sono in crisi e che hanno portato alle crisi hanno portato a queste molteplici crisi e quali per esempio la circolazione la circolazione di la circolazione delle persone, gli spostamenti di capitale, gli scambi, gli stessi principi che hanno portato alla necessità e all'esigenza dell'unità sono in crisi appunto negli stessi principi quelli degli scambi di bene e servizi, la circolazione delle persone e la circolazione di momenti. Qualcun altro? Prendi il microfono. Vorrei portare un ricordo personale di quando ero ragazzo e alla radio con mio padre sentivamo risultati all'Assemblea Nazionale in Francia quando il progetto di CED è stato distrutto. Vi ricordo il forte disappunto di una persona nata nel 1902 che ha vissuto sulla sua pelle di esercito comune europeo quello chiamato CED se non si ricordo con il disappunto e il dolore di una persona che ha vissuto sulla sua pelle due guerre mondiali nata nel 1902 ma questo è storia ma forse la storia insegna che da lì non si doveva passare. Invece una domanda più specifica molti come lei ritengono che l'uscita dall'Inghilterra sia un danno. Altri invece che stamattina ho sentito ritengono che l'uscita dall'Inghilterra possa costituire un inizio di compattamento sotto l'egemonia franco-tedesca di una federazione più compatta meno soggetta a forze centripete centrifuga scusate. Cosa ne pensa? Grazie. Sì, solo una domanda brevissima. Io sono più incline forse a pensare a compromessi o vie di uscita piuttosto che a visioni dirompenti. Ma la domanda potrebbe essere questa mi aggancio anche a quella che mi ha preceduto. Non pensate forse che oltre a una suddivisione nord-sud dei paesi europei che possa che può o che sembra generare contenzioni di tipo economico un'altra divisione questa divisione ovest-est sia altrettanto e forse più dirompente per per quelli che sono gli obiettivi strategici e le direzioni anche divergenti in cui i paesi dell'est tendono ad andare rispetto ai paesi dell'ovest. Non sarebbe forse più saggio per l'Europa cercare di isolare certe spinte centrifughe che vengono dall'est tanto per essere chiari come ciascuno di noi neanche io ho formule da suggerire però da chi studia da chi alza la bandiera dell'Unione Europea dell'Europa del futuro eccetera un qualche cosa di pratico che ci faccia sperare perché altrimenti siamo nel buio più assoluto voglio dire un argomento che fa breccia nella testa della gente è far capire che l'Europa deve mettersi in condizioni di poter competere contro tutte le grandi potenze mondiali questo secondo me è il punto di partenza che fa capire alla gente se non ci uniamo se non mettiamo insieme i 400 milioni di europei per poter competere con la Russia con la Cina col porco giuda eccetera siamo destinati ad andare sott'acqua e allora puntare lì sopra secondo me cosa che non si fa mi pare la stampa che una volta illuminava diceva adesso ci si rende conto che è una banda di chiacchieroni che dicono e si contraddicono e non concludono niente nessuno si impegna per far capire e allora io suggerirei un secondo punto e poi chiudo tanto per concretare le cose nessuno ha mai affrontato il problema di precisare la quantità di sovranità che ogni singolo stato sovrano deve poter mettere nel crugiolo comune per poter raggiungere questa autorità questa forza perché mi sembra un secondo punto di partenza importante perché altrimenti siamo nella confusione più totale quella cioè che ci incombe e che ci paralizza mi sembra che dettagliare in cosa consiste questa sovranità quale quanta di questa sovranità dobbiamo conservare gelosamente singolo stato per singolo stato e quale dobbiamo conferire nel calderone nazionale mi sembrano due punti di partenza l'importanza di questo problema di fondo perché altrimenti siamo destinati noi alla miseria non facciamo più figli non abbiamo più prospettive di nessun tipo quindi capire far capire che o ci si unisce o l'Europa scompare come soggetto di politica internazionale fa il piccolo commercio il piccolo cabotaggio ma non competta a livello mondiale e quindi alla fine la grande Europa che ha illuminato che ha fatto che ha detto che si è massacrata con una cecità incredibile uscendo sconfitta da due imprese grandiose terribili terrificanti senza concludere nulla e poi questa della sovranità conferiamo qualche sovranità a un'entità superiore che la usi in qualche maniera che faccia vedere se si fanno o non si fanno progressi ecco mi sembrano due punti che se chiariti potrebbero aiutare grazie io volevo solo chiedere a professore Esposito se ci può dire compatibilmente con il tempo disponibile come effettivamente il pensiero filosofico legge la crisi attuale e che tipo di valore aggiunto potrebbe portare grazie qui si parla di grandi sistemi si parla di grandi sistemi ma ci si scontra poi nella quotidianità con ciò che noi viviamo in questo periodo che è il problema della migrazione non c'è neanche in questo problema unione di intenti in Europa non si sa bene come affrontarlo io leggevo una notizia attentibilissima dalla fonte dove ho tratto questa notizia che nell'Africa subsahariana vivono poco più di un miliardo di persone di questi 200 milioni sono giovani si ipotizza che negli anni a venire queste vogliono venire in Europa come si fa ad affrontare un problema così grave se vediamo appunto che in Europa non c'è neanche comunione in intenti nel distribuire questi numeri che in confronto a quelli che ho detto prima sono ancora piccoli abbiamo visto il problema del Brennero che forse si risolve perché i controlli verranno fatti in Italia ma se non si gestisce bene questo fenomeno quanto rimarrà dell'Europa di oggi non quella di domani quella di oggi ma cari amici intanto grazie di questa partecipazione tutte queste domande alle quali lo dico subito io sono incapace di dare delle risposte globali sensate ci muoviamo tutti quanti un poco nel buio a tentoni quindi lo faccio anch'io non esiste un tipo di filosofia che possa risolvere questi problemi in generale la filosofia non ha mai risolto questi problemi può cercare di fare inquadrare le cose in un modo diverso farle vedere in un modo diverso cambiare come qualcuno diceva le prospettive i paradigmi cioè il modo di interpretare la realtà non ha strumenti diciamo reali di cambiamento può parlare alla politica ma poi è la politica che deve agire io diciamo ho raccolto qualche appunto sulle cose dette intanto giusto questa è una crisi non congiunturale una crisi di sistema la crisi di sistema che è arrivata a un punto di non ritorno quindi io condivido la diagnosi pessimistica o comunque molto radicale che tu facevi diciamo non è possibile piccoli aggiustamenti anche dalla crisi del 29 del 900 si è usciti con un forte cambio all'invenzione dello stato sociale del welfare state solo così si è fatto fronte a quei problemi oggi ci vorrebbe una diciamo un'uscita altrettanto forte purtroppo gli interessi di chi ha in mano le leve del potere cioè la grande finanza globale nel mondo 63 persone hanno la stessa ricchezza di tutti quanti gli altri miliardi di persone che esistono cioè quindi l'ultima analisi poi se volete veramente sapere io come la vedo dentro questo regime capitalistico non c'è una soluzione o esplode questo sistema speriamo non in modo catastrofico ma se no diciamo è difficile dentro il regime chiamiamolo neoliberale in cui siamo trovare delle soluzioni ci vuole una ridistribuzione forte della ricchezza ci vorrebbero delle forti tasse sui patrimoni immobiliari bisognerebbe modificare il rapporto per cui il titolare di un'impresa in alcuni casi in tanti altri no ma insomma tutti lo sappiamo Marchionne prende mille volte più di un operario della Fiat se questo non cambia è difficile è difficile risolvere i problemi se l'Occidente in generale cioè i ricchi nell'Occidente non cala un po' con il loro livello di vita è difficile fronteggiare queste masse che ci assedono e a un certo punto ci schiacceranno questo diciamo un po' più in generale è detto fuori da denti in Europa in particolare adesso ci sono tre problemi politici molto grossi cioè il problema della Germania la Germania ha sempre creato grandi problemi da fine ottocento a metà agli anni trenta del novecento adesso problemi diversi certo non si può paragonare la Merkel a Hitler però diciamo la Germania ha una tendenza innata ma anche una forza una capacità una tenacia di questi 80 milioni di persone di creare egemonia questa egemonia della Germania crea problemi ad altri paesi in particolare alla Francia perciò io non credo che l'uscita dell'Inghilterra possa come dire costituire un'Europa guida franco-tedesca perché gli interessi francesi e quelli tedeschi sono a loro volta diversi i problemi originari dell'Europa come è stato detto la mancanza di un esercito comune sono stati creati dalla Francia e la Francia e la Francia che ancora oggi che un anno scorso è andata a invadere la Libia senza neanche dirlo agli alliati europei e che ancora oggi ha questa posizione vergognosa nei confronti dell'Egitto e quindi il problema se si potesse fare un'Europa guida franco-tedesca con l'Inghilterra fuori il che significa con l'America che abbandona poi l'Europa naturalmente forse sarebbe anche utile solo che francesi e tedeschi non si mettono d'accordo tra di loro poi ci sta il problema Russia è giusto che il vero un crinale altrettanto delicato di quello nord-sud e quello est-ovest la Russia ha ambizioni di grande potenza vuole ritornare alla potenza sovietica è governata da una sorta di tiranno quantomeno personaggio assolutamente autoritario che non ha nessun tipo di principio morale si diciamo gioca una partita solo in base agli interessi e ai rapporti di forza la Russia è una grande potenza ha un grande esercito e quindi la Russia è un problema perché la Russia non vuole un'Europa forte vuole tenere un'Europa che tiene un po' sotto scacco poi ci sta un terzo problema che è la Turchia la Turchia è una cerniera tra occidente e oriente ma gioca una partita molto truccata molto sporca per certi versi combatte diciamo il terrorismo per l'altro lo ha alimentato come del resto tutti gli stati medio orientali dall'Arabia Saudita agli Emirati quindi tutto questo diciamo purtroppo è dato di fatto figuratevi se la filosofia può sanare queste cose no? ovviamente lo dico in maniera autocritica autoironica verso il mio stesso il mio stesso lavoro e ancora l'Europa deve poter competere con le altre potenze questo non è detto ma guardate non è vero che non è detto se voi leggete che so la Repubblica il giornale che io leggo e su cui qualche volta scrivo ogni giorno c'è detto questo e che non incide non incide perché perché non esistono intanto media europei non esistono quotidiani europei non esiste una televisione europea perché non c'è intanto una lingua comune europea ormai l'inglese per certi versi lo sta diventando ma diciamo chi è che veramente parla bene inglese almeno nella nostra generazione di quelli che siamo qua i ragazzi già lo fanno di più ma comunque la mancanza di media europei fanno sì che i quotidiani siano tutti nazionali vendono in fondo sempre meno copie e quindi non fanno opinione pubblica per cui non si crea diciamo quello che prima dicevo un popolo europeo perché diciamo ecco questo faccio un unico riferimento alla filosofia un filosofo tedesco che si chiama Habermas che da molto tempo parla dell'Europa pensa dell'Europa dice vedete è vero che non c'è un popolo europeo perché ci sono stati gli stati nazionali però lo si potrebbe creare lo si potrebbe creare ma lo si potrebbe creare se ci fossero dei mezzi di comunicazione di massa europei fin quando tutti i giornali e tutte le televisioni restano prevalentemente nazionali questo è difficile che si crei e dunque che cosa che cosa può accadere definire come mi chiedeva qualcuno qual è la sovranità degli stati nazionali e quale può essere la sovranità europea la sovranità ha sempre significato da 500 anni dominio sul proprio territorio battere moneta una diciamo procedure giuridiche di un certo tipo e diciamo è un esercito questi sono stati gli attributi tradizionali della sovranità nazionale si possono trasferire all'Europa teoricamente sì di fatto no perché nessun paese vuole appunto siccome i paesi europei hanno forza diversa tra di loro e sul piano economico e sul piano militare la Francia e l'Inghilterra hanno la bomba atomica ci sono perché sono i paesi che hanno vinto la guerra anche se la Francia l'ha persa in realtà però si ritiene che l'abbia vinta perché diciamo per la vicenda che voi sapete De Gaulle eccetera la Germania e l'Italia hanno perso la guerra e quindi non hanno eserciti e non hanno armi e distruzione di massa questo fa sì che in ultima analisi quando si dice che so l'Italia guida la spedizione in Libia ma questo è uno scherzo ma mi pare che la Francia e l'Eghilterra danno all'Italia la guida di qualche cosa Italia è ridicola come potenza militare ammesso che fare la guerra sia una soluzione che la si possa accettare ma se così fosse sarebbero sempre le nazioni più forti a gestire sul piano economico non c'è paragone tra la Germania che ha utilizzato l'Unione Europea per rafforzarsi per rafforzare il marco perché l'Euro è il marco esteso questo ha strangolato un po' le economie di tanti paesi ci sono paesi molto messi male come il Portogallo la Grecia la Spagna e per certi versi anche l'Italia e poi c'è un ulteriore aumento che forse l'Europa era possibile se si restava in una quindicina di stati nel momento in cui sono entrati tutti gli stati orientali usciti dall'Unione Sovietica questo è ancora più difficile perché appunto pencolano tra Russia ed Europa insomma ci sono situazioni a tutti i livelli complessissime detto questo io penso che la responsabilità di quelli che si definiscono in una maniera un po' grottesca intellettuali quale sia questa responsabilità quello di dire appunto guardate che se noi restiamo in questa condizione o perdiamo anche quelle piccole conquiste verso l'enorme che abbiamo fatto noi soccomberemo perché i cinesi ci soffocheranno sul mercato perché non pagano la mano d'opera perché gli arabi ci chiuderanno i pozzi del petrolio perché le fonti energetiche alternative sono difficili e costose ecco però forse su questo chiudo un'unica speranza potrebbe proprio venire dalla questione ambientale che qualcuno ha nominato forse per la prima volta sotto la minaccia del fatto che i ghiacci si sciolgano gli acque del mare crescono i paesi sono inondati sotto la minaccia di fattori ambientali che tutti gli scienziati hanno dichiarato ineludibili se voi non fate questo il mondo tra cento anni perirà questo può essere una prima spinta a diciamo a fare qualche accordo come in fondo è stato fatto a Parigi sull'ambiente minimo ma insomma è stato fatto perché perché gli uomini si muovono solamente sotto due spinte l'interesse e la paura l'interesse e la paura quindi se vengono terrorizzati da quello che può accadere da una catastrofe universale si muovono altrimenti se questa paura non è abbastanza la necessità non è abbastanza forte si muoveranno sempre in base ai loro interessi siccome il regime capitalistico in cui tutti siamo invoca il fatto che ognuno segue i propri interessi non c'è soluzione quindi figure eh sì vale la pena di rilevare che l'accordo dell'ONU è stato firmato da 835 e per la prima volta comincia a determinare dei piccoli esattamente la nuova la giubstizione perciò ho detto solamente sulla questione ambientale vedo qualche pallida luce ecco queste sono le cose che potevo dirvi passo un attimo la parola a voi intanto vi saluto e vi ringrazio moltissimo per questa serata io credo di interpretare tutti esprimendo un vivo ringraziamento a Lucio Levi e Roberto Esposito per la loro disponibilità questa sera augurandoci di poter commentare queste cose con un po' più di speranza tra qualche tempo grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti